Buona domenica, buona domenica a tutti, contava solo vincere, contavano solo i tre punti, contava solamente portare a casa il risultato e il Milan ci è riuscito, quindi obiettivo raggiunto. Poi si può discutere che la prestazione non è stata eccellente, perché nel secondo tempo il Milan è andato un po' in affanno, ma in questo momento della stagione contano solamente i punti perché le giornate da qui alla fine del campionato si riducono. Mancano nove giornate, il Milan è in testa alla classifica, attualmente con 63 punti, aspettando ovviamente le altre partite, però è importante per il Milan riuscire a vincere queste partite, gare che hanno sempre messo in difficoltà i rossonieri, perché contro le piccole si sa che il Milan va un po' in difficoltà quando deve proporre gioco, quando deve costruire il gioco per 90 minuti. Però è stata una partita che ha evidenziato dei concetti molto importanti. Il primo è che siamo di fronte ad un ragazzo come Pier Calulù che sta vivendo un momento incredibile, eccezionale. Giocatore che non solo difende in maniera limpida, chiara, non solo difende in maniera concreta, perché è sempre attaccato all'avversario, mordendo le caviglie all'avversario, è sempre lì pronto a correre e inseguire l'attaccante di turno che ovviamente arriva a San Siro, ma anche fuori caso naturalmente. Ma è anche ora un giocatore che determina le partite e i risultati. Ieri sera ha tirato in maniera splendida dal limite dell'area di rigore, quasi come se fosse un attaccante, un centrocampista offensivo, con un bel tiro che non ha lasciato scampo al portiere dell'Empoli. Il Milan vince grazie a Calulù. Tre punti pesantissimi determinati da questo giovane francese che in punta di piedi è arrivato al Milan con grande umiltà, con grande passione e ora sta addirittura viaggiando su livelli altissimi. Complimenti a Pier Calulù perché davvero non è facile vedere tutti i giorni un giocatore imporsi con questa determinazione, con questa voglia. Pensate che ribadiamo sempre il concetto che il Milan ha acquistato per 480 mila euro, ma è un qualcosa di incredibile perché se ci pensate molti club italiani, stranieri, europei, spendono fior fior di soldi per acquistare difensori centrali e il Milan se lo ritrova in rosa pagandolo praticamente 480 mila euro e questo ragazzo, questo giocatore sta sfoderando delle prestazioni incredibili, dopo l'Inter anche il Napoli e ora l'Empoli. Non solo difende bene annullando gli attacchi avversari, ma riesce anche a segnare, è davvero un momento d'oro per Calulù che sta rubando la scena, è il classico momento in cui tutto ti riesce bene, tutto va bene. Ed è un merito di Stefano Pioli che ha creduto in lui, del giocatore ovviamente, delle sue qualità, delle sue doti, del fatto che vuole sempre, come dire, migliorare. Nell'intervista post partita contro l'Empoli ha detto c'è un grande dialogo con Tomori perché anche Tomori ha sfoderato un'altra grande prestazione. Il Milan ha eretto un muro con questi due giocatori che per caratteristiche si somigliano, sono entrambi aggressivi, entrambi veloci, entrambi sempre concentrati sul pezzo e probabilmente sono queste le caratteristiche dei difensori che servono al Milan per il gioco del Milan. Fatto sta che nelle ultime gare il Milan ha pareggiato 0-0 con l'Inter in Coppa Italia non subendo gol, ha vinto 1-0 a Napoli non subendo gol, ha vinto 1-0 in casa contro l'Empoli non subendo gol. 3 clean sheet di seguito, 3 clean sheet di fila, nello specifico 2 in campionato e questo vuol dire che la difesa, la fase difensiva sta funzionando a meraviglia, sta funzionando bene ed è uno degli aspetti più importanti della gara di ieri sera con l'Empoli. E poi veniamo a Mike Mignan. In questo momento mi espongo, Mike Mignan non lo cambio con nessun portiere al mondo. Non è soltanto una questione di leadership, di spogliatoio, di rapporto all'interno del team, all'interno del gruppo tra Mignan e gli altri giocatori perché da quel punto di vista sappiamo che Mignan è pazzesco. Ma parliamo anche di un portiere che un intervento fa durante la partita ed è un miracolo, è un intervento miracoloso, è un intervento decisivo. Questi sono i portieri fenomenali, quelli che nell'arco di 90 minuti non devono essere operativi, tra virgolette, perché magari viene sollecitato poco dagli attacchi avversari, ma quando c'è da mettere la mano, quando c'è da fare il tuffo miracoloso, quando c'è da volare per togliere la palla dalla porta, risponde presente. Mike Mignan in questo momento sta davvero determinando anche lui con le parate, sta diventando sempre di più un portiere forte e sta ovviamente raccogliendo elogi e complimenti da tutti. Anche ieri Zenga a Sky ha detto devo fare i complimenti a Mignan perché non era facile sostituire Donnarumma e nessuno al Milan sta rimpiangendo Donnarumma, anzi è il contrario, è Donnarumma che sta rimpiangendo di aver lasciato il Milan nonostante i tanti soldi che sta guadagnando al Paris Saint Germain, perché i soldi non sono tutto. Ma Mignan davvero in questo momento non lo cambierei con nessun altro portiere al mondo, il salvataggio sul colpo di testa di Luperto a inizio secondo tempo è clamoroso perché quella parata lì non è facile farla, soprattutto a freddo nel senso che era a inizio secondo tempo, la partita stava cominciando magari a mettersi su binari diversi perché il Milan nel primo tempo ha dominato, nel secondo tempo l'Empoli è uscito fuori, però quell'intervento lì ha subito messo le cose in chiaro perché se il Milan subiva gol in quel momento con quel colpo di testa, quella spizzata di Luperto in area di rigore del Milan, lì la storia della partita cambiava, il Milan andava in affanno, magari subentrava la paura, subentrava il timore di non portare a casa l'ennesimo risultato contro una squadra piccola, come è successo con la Salernitana, come è successo con l'Udinese in casa soprattutto. Quell'intervento lì di Mignan è stato spettacolare, clamoroso, tanto è vero che anche Andrea Zoli, l'allenatore dell'Empoli a fine partita ha detto ragazzi Mignan ha fatto una parata clamorosa lì, poteva cambiare la storia della partita, poteva cambiare la storia di Milan-Empoli, ma la storia di Milan-Empoli è anche Mike Mignan perché ci ha messo del suo per regalare tre punti al Milan, per dire che il Milan è presente, è primo in classifica meritatamente e ora si gode questa domenica aspettando il risultato delle altre concorrenti al primo posto, quindi la Juve ha vinto contro la Sampdoria, c'è la partita del Napoli contro l'Elas Verona, la partita dell'Inter contro il Torino, il suo lo ha fatto per questa settimana, ora se ne parla per la prossima dove il Milan deve giocare in casa del Cagliari, non sarà facile perché a Cagliari è sempre una trasferta un po' particolare, ma i giocatori del Milan e i tifosi del Milan vogliono godersi questa domenica, poi da domani si riapre un altro capitolo, ma la gara con l'Empoli ha detto che Calulu sta crescendo e sta diventando un giocatore clamoroso, nonostante la spesa molto molto bassa che ha dovuto effettuare il Milan per prenderlo dal Lione, dalla primavera del Lione e sta confermando Mignan a livelli altissimi. Il Milan si gode il primo posto in classifica, può far meglio perché le partite possono essere vinte anche 2-0, 3-0 e mettere il risultato in ghiaccio, come si dice in gergo e non soffrire fino all'ultimo, ma le vittorie in campionato si ottengono anche così, 1-0, difesa solida, gol decisivo di Calulu, 3 punti in cascina e si guarda la prossima gara. A presto, ci vediamo nel pomeriggio.